La provincia regionale di Catania approva il progetto esecutivo per il rifacimento del muro d'ala del ponte sulla provinciale 200. A darne notizia è il consigliere provinciale la destra Giuseppe Mistretta. Sono veramente soddisfatto, devo dire, è passato però troppo tempo, troppe attività anche per quanto mi riguarda interpellanze, interrogazioni, commissioni consigliari che ho portato qui in questa zona per cercare di sbloccare questa vicenda che, devo dire, è ormai, insomma, si era incancrenita, bloccata. Oggi c'è una novità, una felice novità, siamo riusciti finalmente, nel momento in cui si decide di cancellare le province, almeno siamo riusciti a chiudere un'opera che veramente rischiava di escludere una zona importante della nostra provincia, in cui ci sono ovviamente residenti, in cui ovviamente ci sono imprese, che rimaneva esclusa totalmente, se il ponte fosse crollato, in più ovviamente il crollo definitivo del ponte sarebbe costato molto di più alla provincia regionale di Catania. È stato approvato il progetto esecutivo, in questo caso dal commissario straordinario, per un importo dei lavori complessivo di 500 mila euro, riusciremo a mettere in sicurezza finalmente questo ponte, diciamo ormai l'iter non è irreversibile, si va avanti, si sta procedendo, nei prossimi giorni io credo che andremo in gara di appalto e quindi a breve si aprirà l'iter definitivo e chiuderemo questa triste pagina. Io personalmente ho una grande soddisfazione perché penso di chiudere così la mia attività da consigliere provinciale ed era uno dei punti, uno degli impegni che avevo preso con la comunità del Calatino, di Mineo in particolare, insomma rammarico per le tante cose non fatte, ma almeno questa piccola soddisfazione presa in estremis.